Eccoci con Air allora al termine di questa bella partita, un 3-0 secco, tanto morale per noi. Sì, una bella partita oggi, tanto importante per noi dopo una sconfitta là con loro, però adesso siamo in play-off, i punti erano zerati, adesso siamo con tre punti importanti e andiamo in Norvietto a giocare anche là, così come oggi, come anche l'ultimo set che era punto a punto in finale, però mi è piaciuto perché le ragazze hanno giocato tutte insieme, anche io dentro, siamo giocati tutte insieme e abbiamo preso anche questo set perché era importante, era chiudere così per il nostro morale. Avete fatto una bella partita, soprattutto di cuore, ma anche tanto ordinata in campo su tutti i fondamentali, un 3-0 che comunque ha poco da dire, adesso si prepara nuovamente la trasferta. Sì, il mercoledì giochiamo là con Norvietto e speriamo che facciamo una bella partita come quest'oggi e anche meglio. Quanto ci tenete a questi play-off, insomma, a fare una bella figura davanti al pubblico di casa al Palamanera a portare a casa un risultato importante? Sempre qua, quando giochiamo a casa, c'eriamo un giocatore di più e lo dico sempre e questo è il nostro pubblico che è caldo, che in nessuna parte ne ho visto un pubblico così. Ci credete? Sì, normale. Grazie mille. Grazie, ciao.